Buonasera, ospiti questa sera di QDP il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e il direttore dell'Alpino Don Bruno Fasani, perciò quando si parla di alpini qui abbiamo il massimo. Un'esclusiva, proprio una sorpresa per QDP, Don Bruno intervisterà il presidente. Io vorrei chiedere al presidente una cosa, siccome quando parliamo di alpini tendiamo sempre a enfatizzare quasi che fosse un corpo perfetto, tu presidente dove vedresti ancora i margini di migliorabilità nel nostro corpo di alpini? Al di là del corpo, proprio anche dell'associazione, credo che i margini di migliorabilità sono ancora della nostra necessità o della nostra capacità di poter ancora capire e inserirsi ancora meglio nel tessuto in cui viviamo. Questo già lo facciamo, però io credo che questo è uno sforzo che dobbiamo fare ancora di più. L'altro aspetto importante per noi è saper guardare con forza e con decisione al nostro futuro. Per guardare al futuro vuol dire anche guardarci intorno e guardare con più attenzione anche gli amici degli alpini. La seconda domanda che vorrei fare riguarda un po' proprio questa prospettiva di futuro che certamente domanda anche un interesse da parte della politica. Si nota da parte della politica un qualche segnale di risveglio, di attenzione verso il mondo degli alpini e comunque verso il futuro associativo anche attraverso un ritorno alla leva obbligatoria o quantomeno un servizio civile obbligatorio. Si, ecco, su questo devo dire che forse la testardaggine, la conciutaggine degli alpini e devo dirlo anche prima di me, prima della mia presidenza, nel continuare a insistere sul fatto che per i giovani sia necessario un momento, un periodo di impegno, di dedizione agli altri che non necessariamente deve essere un ritorno alla leva così come era prima ma che necessariamente invece deve essere un impegno vero, preciso e io direi veramente obbligatorio. Tutti devono fare questa esperienza perché questa esperienza è qualcosa che arricchisce non solo se stessi ma arricchisce una nazione e un popolo se vuole essere tale. Presidente, un'ultima domanda. Stai per concludere il tuo primo mandato triennale, evidentemente propedeutico a quelli che verranno dopo, ma se tu dovessi dire i fiori all'occhiello di questo tuo primo mandato o comunque le cose che ti hanno gratificato in questo tuo primo mandato, dove andresti a identificarle? In questo primo mandato io guardo e vedo a quello che, e l'ho detto anche nei miei interventi e nella mia relazione, al grande affetto che ho notato negli Alpini. Quando vado, quando vado in giro, la mia carica vera la trovo proprio lì. Trovo i miei Alpini e mi piace chiamarli così, anche i miei amici degli Alpini che ti guardano e ti considerano qualcosa di particolare, qualcosa di diverso. Allora ti senti quella carica necessaria per pensare anche al futuro e per veramente fare che questa associazione, che è grande, diventi ancora più grande, ma grande e capace di dare agli altri. Da domanda mi provoca domanda. Continui a parlare il Presidente degli Amici degli Alpini. Evidentemente c'è un investimento perché scopri che con la loro, chiamiamola manovalanza, tra virgolette, è possibile fare grandi cose ancora. Sì, io ho scoperto che questi amici degli Alpini, che in silenzio, con una tessera in cui è scritto non si può, non si può, non si può, stanno dando veramente un contributo perché credono nei nostri valori. Allora quella è la cosa importante. L'importante per noi, per l'associazione, è credere nei nostri valori, per non dimenticare. Evidentemente stai dicendo che l'associazione nazionale Alpini sta creando in qualche maniera una coscienza collettiva, una coscienza di popolo, perché questo è importante, non soltanto tra gli alpini, ma che si allarga sempre di più alla popolazione. Battuta finale, quali progetti grandi ci sono davanti nell'ordine del fare? Nell'ordine del fare, al di là ovviamente di perfezionare tutto quello che riguarda non solo la protezione civile, intesa in senso stretto, ma tutto quello che riguarda il volontariato e soprattutto nel guardare proprio ai giovani, con due grandi movimenti, con due grandi iniziative. Una è nel prendere e nel cogliere quello che la riorganizzazione e la nuova legge sul terzo settore ci potrebbe permettere di fare, proprio in vista di una leva di giovani e servizio della patria. E l'altro, quella che ci riguarda all'interno, creare all'interno della nostra associazione un ruolo, un ruolo più definito, più preciso, oserei dire anche un po' più dignitoso ai nostri amici degli alpini. Un'ultima domanda ve la faccio io. Cento anni fa la Grande Guerra, cosa ci deve insegnare questo anniversario? La Grande Guerra mi ricorda che è scoppiata perché c'erano degli interessi di parte dei grandi nazionalismi, la Germania che voleva essere il primo Stato all'interno dell'Europa, l'Inghilterra che voleva essere la padrona dei mari, la Russia che puntava alle popolazioni che erano dell'est dell'Europa, comunque della regione balcanica, il dominio ancora dei passaggi sui Dardanelli nel Bosforo per le navi e quindi ancora per la Russia, insomma era una serie di interessi, di ingordigie nazionalistiche. Allora al di là proprio delle vicende belliche starei per dire che l'insegnamento della Grande Guerra è che quando qualcuno degli Stati vuole diventare più Stato degli altri, più importante degli altri, più bravo degli altri, più padrone degli altri, quello è il momento in cui si rompono gli equilibri e allora nel momento in cui si rompono gli equilibri nascono le diffidenze e dalle diffidenze poi nascono le contrapposizioni e qualche volta le guerre. Presidente? Per me, vista qui da questo territorio, tra l'altro io sono figlio di questa terra, della terra in cui si è vissuta anche questa grande guerra, si è vissuta questa grande drammatica, tragica esperienza, quello che è l'insegnamento a cento anni che dobbiamo imparare e che da un lato questa guerra con tutte le sue drammaticità, con tutta la sua non giustizia, comunque una cosa di positiva l'ha data anche a noi, ha dato la capacità di capire per la prima volta che l'Italia poteva essere un popolo, è però una capacità e un messaggio che ancora a cento anni dobbiamo cogliere a pieno, io spero che finalmente lo cogliamo. Grazie a tutti, siete stati gentilissimi e abbiamo avuto la fortuna di avere qui il direttore dell'Alpino e il presidente dell'Associazione Nazionale degli Alpini.